Eccoci qui ritrovati in questo nuovo video, oggi faremo un breve webinar, un webinar sulla riduzione dei rifiuti. Vi lascio la slide, imparo a ridurre rifiuti quotidiani, consigli semplici, pratici e soprattutto realistici. Ci tengo la parola realistici perché spesso quando vedo delle idee, dei webinar in giro, comunque mi documento sulla riduzione dei rifiuti a livello personale di noi come esseri umani, comuni, ci sono tante belle idee, ma veramente belle, belle però un po' utopistiche nel senso tale che poi nell'atto pratico quotidiano sono veramente difficili da poter realizzare. Quindi volevo creare questo webinar su delle idee, degli spunti di riflessione da poter fare quotidianamente sulla riduzione dei rifiuti, però pratici perché sennò ha poco senso. Noi sappiamo che la nostra vita è sempre più, come dire, frenetica, si corre di qua, di là, di su, di giù, quindi dobbiamo fare delle cose veloci e semplici che possono aiutare a ridurre i nostri rifiuti. Allora mi presento, per chi non mi conosce, io sono Melania Ciaramicoli, divulgatrice ecologica attraverso, faccio questa attività, Pianeta delle idee ambiente. Pianeta delle idee ambiente è un sito che ho fondato e che amministro, amministro anche i relativi social adesso collegati, dove appunto divulgo in modo facile, spero, e comprensibile di come fare in modo corretto la raccolta differenziata, ridurre i nostri rifiuti quotidiani. Ho avuto il piacere di scrivere degli articoli sul riciclo e sui rifiuti per il quotidiano La Stampa, sezione Tutto Green, oggi presenti sulla Repubblica. Sono stata presente anche ospite su dei programmi radiofonici e televisivi. Perché ridurre i nostri rifiuti? È una domanda che ci dobbiamo porre e quello che mi è venuto in mente a me come risposta è che ogni nostro gesto ha un impatto sul pianeta. Quindi anche ogni piccolo gesto che noi facciamo può come impattare, notevolmente come ridurre l'impatto sul pianeta. Quindi anche una giusta collocazione sulla raccolta differenziata o proprio ridurre un rifiuto fa la differenza. Perché se associamo ogni piccolo gesto che fa ogni singolo essere umano nel mondo, la differenza la fa e come. Considerate che in Italia ogni anno produciamo circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti urbani. Fate un po' voi il calcolo, sono una cosa assurda. Quindi ridurre la quantità è fondamentale, è importante. Se le cose non cambiano saremo letteralmente sommersi dai rifiuti, consideriamo già che siamo belli che sommersi e quindi questo può danneggiare e distruggere vari ecosistemi e habitat naturali. Quindi cosa importante? Tu dirai, anzi tu dirai, mi lo sono proprio detta. Sì sì, è importante, però facile a dirsi e difficile a farsi. Perché come abbiamo detto è tutto molto complicato. Però ogni piccolo gesto, come abbiamo già detto, può fare la differenza. L'importante è iniziare a farla questa differenza nel nostro piccolo con le nostre capacità. E quindi cerchiamo di fare questa differenza nella quotidianità di tutti i giorni. Come? Scopriamo insieme queste piccole idee semplici ma che possono fare la differenza. Partiamo parlando di che cosa? Qual è, diciamo, il fulcro di tutto questo webinar? La consapevolezza. Se noi siamo consapevoli di dover ridurre, di voler ridurre questi rifiuti, faremo delle scelte differenti. Quindi una volta che noi ne siamo consapevoli, quindi se uno arriva in questo video, in questo webinar, molto probabilmente ha una consapevolezza, attraverso questa consapevolezza faremo la differenza in tre step che io ho individuato, che reputo fondamentali durante l'acquisto di prodotti che noi facciamo abitualmente. Quindi il primo step è prima dell'acquisto, il secondo step è durante l'acquisto, il terzo step è dopo l'acquisto. Vediamo il primo step. Il primo step è prima dell'acquisto. È fondamentale porsi delle domande, perché noi spesso andiamo a fare la spesa, ad esempio classico, la spesa che facciamo quotidianamente al supermercato, ma non ci poniamo nessuna domanda. Andiamo lì, difetta e furia, e facciamo la spesa. Dicevano allora, è finito il latte, il caffè, il pane, e acquistiamo. Poi quando siamo lì, sappiamo tutti che tutto quello che vediamo ci induce, ci invoglia ad acquistare, e quindi acquistiamo più di quello che necessita. Quindi cosa è importante fare? La lista della spesa. Pare banale, ma è importantissimo, perché sarà capitato anche a voi, a me mi compro metà di quello che mi serve e poi tutto ciò che non mi serve. Torno a casa e mi ritrovo che quello che mi serviva non l'ho acquistato e ci devo pure ritornare a fare la spesa. Quindi devo anche utilizzare poi il mezzo per andarci, eccetera, quindi altro che riduzione, qui è un aumento, non si riduce. Quindi fare la lista è importante. Un consiglio. Facciamo la lista, non solo mettendoci qui e scriviamo, ma facciamo la lista andando proprio a vedere il frigo, aprendo il frigo, la dispensa dove noi teniamo tutto ciò che dobbiamo utilizzare, che comunque dobbiamo acquistare al supermercato. Perché così ci rendiamo anche conto di quello che c'è e di quello che non c'è, di quello che per esempio è scaduto, di quello che sta per scadere, di quello che non è più integro, che è andato a male e bisogna buttare per forza perché c'è la muffa. Quindi è importante guardare dentro e rendersi conto di quello che abbiamo e che non abbiamo, di quello che ci serve, di quello che ci può servire e di valutare, questo è un piccolo parentesi, che anche se un prodotto c'è è scaduto, ovviamente facendo la giusta distinzione tra la dicitura da consumarsi il da consumarsi preferibilmente entro, perché comunque da consumarsi il è una data perentoria, quindi dice da quel prodotto da quel giorno in poi io non come produttore alzo le mani, se tu utilizzi fai tu. Preferibilmente dentro vuol dire preferibilmente, ma non è che da quel giorno in poi non è più commestibile un prodotto, lo possiamo comunque utilizzare sempre in base a come è stato tenuto il prodotto conservato. Ma comunque facciamo sempre caso, faccio l'esempio classico delle uova, se scadono il 5 febbraio e io me ne accorgo il 6, valutiamo sempre comunque come sono rimaste integre o meno queste uova, perché magari si possono riutilizzare facilmente qualsiasi prodotto in realtà. Noi dobbiamo sempre un po' valutare, perché consideriamo che i prodotti che ci sono in commercio appunto è tutta una questione commerciale, quindi danno una data, ma non è detto che quel prodotto in realtà sia effettivamente da gettare e non si può riutilizzare comunque. Quindi facciamo sempre caso ai nostri prodotti, presso la vista, l'olfatto, il gusto e così via. E una cosa importante, facciamo anche la lista se acquistiamo online. Molti fanno la spesa non di persona, ma nel sito del supermercato. Ok, lì diamoci una lista della spesa, non andiamo tanto per tanto sto a casa, facciamo sempre la lista della spesa, perché comunque questi luoghi che sia fisico che sia online sono progettati proprio per indurci ad acquistare più del necessario. E se andiamo a fare la spesa portiamoci sempre la busta riutilizzabile con noi, perché ci fa evitare di produrre dei rifiuti come le bustine mono utilizzo. Un altro consiglio è, una volta che ho fatto la lista, mi devo chiedere ce l'ho già in casa? Facciamo un esempio. Ce l'ho in casa il pomodoro? Sì, ho a posto, allora non lo compro. Ce l'ho a casa il purè? Faccio l'esempio del purè? No, mi è finita la confezione della scatola del purè. Lo devo riacquistare? Beh, in realtà no. Perché? Perché noi in realtà il purè ce l'abbiamo però scomposto in casa, ma ce l'abbiamo, perché se abbiamo delle patate, del latte o dell'olio, del burro e del parmigiano, noi possiamo farci benissimo. Il nostro purè è fatto in casa che è molto più buono di quello già, tra virgolette, semipronto. Il tempo, tanto che ci vuole a farlo più o meno quello, però oltre a essere più buono, noi riduciamo i nostri rifiuti, perché prima di tutto oppure ce l'abbiamo in casa. Quindi che senso ha andarlo a acquistare? Poi, se noi andiamo a acquistare quel tipo di prodotto, come esempio, produrremo dei rifiuti in più. Quindi la scatolina, la confezione monodose della bustina che spesso è un po' l'accoppiato, anche se di due tipi, di 3, 4, 25 tipi di plastiche unite insieme, che sono difficili da separare e da riciclare. Molto probabilmente sono conferibili nella raccolta della plastica, ma poi diventeranno un rifiuto vero e proprio nell'indifferenziato. Quindi facciamo caso anche a questi piccoli aspetti. Oppure, facendo un esempio non sul prodotto alimentare, faccio l'esempio che mi è successo a me. Io volevo fare dei ravioli, però ho provato a fare il raviolo fatto in casa da solo, stendendo la pasta con il mattarello, eccetera, però questa pasta non viene fine abbastanza per poter mangiare un buon, come si dice, raviolo. Ma siccome faccio i ravioli una volta all'anno, se va bene, ha senso acquistare la macchinetta che mi stende la pasta? Posso chiederlo? Posso chiederlo in prestito? Questa è anche un'idea che una volta si usava molto, oggi non si usa più, ma che dovremmo riprendere un po' come usanza. C'è la mia madre, c'è la mia suocera, c'è la mia cugnata, la mia sorella, mio fratello, la mia amica, eccetera, eccetera. Questo ci aiuterà a non acquistare un prodotto che poi diventerà un rifiuto, perché poi non lo utilizziamo così quotidianamente, non è un utilizzo che noi facciamo reale. E questo ci aiuterà a ridurre i nostri rifiuti. Perché quante cose compiamo che ci servono una volta e poi rimane lì, poi un certo punto li andiamo a buttare? Tante volte. Step 2. Durante l'acquisto. Cosa dobbiamo fare? È fondamentale guardarci intorno. Perché noi facciamo la spesa come delle macchine, andiamo lì, prendiamo quello, 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 quello e non ci guardiamo intorno, non ragioniamo, non osserviamo i vari prodotti che abbiamo a disposizione. Quindi cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, se possiamo acquistare un sfuso. Mi rendo conto che non è così facile per tutti. Ad esempio, io non, quando vado a fare la spesa, non riesco ad acquistare dei prodotti sfusi perché non c'è lo sfuso. Comunque c'è lo sfuso, ma molto molto lontano da me. Quindi nella mia quotidianità non posso acquistare sfuso. Quindi cosa dobbiamo fare in questo caso? Cercare di prediligere i packaging di grande formato, soprattutto per quei prodotti che noi utilizziamo spesso e in grandi quantità. Quindi così riduciamo in qualche modo il rifiuto e cerchiamo di prenderne il più possibile in questo modo. Perché non sappiamo che non andrà male, perché noi utilizziamo questo prodotto. Se invece non lo utilizziamo, lo utilizziamo poco alla volta, forse è meglio prediligere il formato monoporsione, perché è vero che monoporsione è considerato il satana della raccolta differenziata, del mondo dell'ecologia, però a volte invece ci può aiutare. Io dico sempre questo, che l'ecologia oggigiorno non è verso una sola direzione, quindi no packaging, no monoporsione, no plastica, ma dobbiamo sempre valutare il contesto in cui ci troviamo, la vita che facciamo e il monoporsione a volte è inevitabile acquistarlo, perché ci sono varie esigenze che ci aiutano a mantenere il prodotto, se no noi faremo uno scarto alimentare e quindi faremo un rifiuto alimentare, comunque anche lì non è uno scherzo, è importante ridurre questi rifiuti alimentari, perché comunque dietro c'è tanto lavoro, ci sono tante persone che hanno difficoltà nel nutrirsi, di avere l'alimentazione a disposizione, l'alimento e quindi è fondamentale secondo me cercare di ridurli il più possibile anche a livello etico. Cerchiamo di acquistare i packaging, comunque che hanno un materiale solo, quindi solo carta, solo plastica, solo vetro, solo alluminio, perché? Perché i poliaccoppiati, cioè questi materiali uniti insieme, differenti, che non sono separabili manualmente, quindi non è il vasetto di vetro con il coperchio in alluminio, perché se no li separiamo, ma è ad esempio questi prodotti, per esempio delle merendine che vanno molto, che il packaging esterno ti dice quasi tutto in carta, si butta nella raccolta della carta, è in realtà un po' l'accoppiato, che sarà difficile da riciclare in un vero senso della parola, perché è conferibile nella raccolta della carta, perché il materiale maggiore di cui è composto è in carta, ma molto probabilmente si avrà difficoltà nel riciclarlo e quindi diventerà un rifiuto vero e proprio, quindi che va nell'indifferenziato. Sfruttiamo il vuoto a rendere, se possiamo, se abbiamo la possibilità, se non abbiamo la possibilità, cerchiamo di acquistare i formati di ricarica. Un esempio che faccio, che utilizzo io, è il sapone per i piatti. Invece di acquistare la confezione proprio con la plastica, tutto bello plasticoso, grosso, prendo il formato di ricarica, che c'è meno plastica, quindi in qualche modo riduco il rifiuto, cioè non è che lo eddo, lo elimino, ma lo riduco in qualche modo. E poi cerchiamo di acquistare, quando dobbiamo fare degli acquisti non solo alimentari, dei prodotti che sono durevoli nel tempo. È molto importante questo, perché una volta acquistato non ci pensiamo più, e faremo una volta solo un rifiuto, non 8500 volte. E una cosa importante, secondo me, poi ditemi voi, è di darci dei limiti. Cosa è difficile in questa società? Darsi dei limiti, perché quando noi andiamo anche in un sito, andiamo a fare la spesa, tutto ci induce in tentazione. Io sono una persona molto minimal, acquisto poco, ma è sempre stato mio di natura, non è che faccio un grande sforzo. Però quando vado in un supermercato, non so come definirlo, non faccio il nome perché è famoso, però dove si vendono detersivi, oggetti per la casa, dove si vendono beauty, oggetti per la cura della persona, oggetti prodotti, io entro lì e non so come è possibile, ma acquisterei di tutto. Sono veramente attratta, non so neanche il motivo, non so per quale motivo, ma lì io acquisto le cose che abitualmente non acquisto. Non so, lo smalto, io non porto abitualmente smalto, ne comprirei 8500. Quindi come faccio a darmi un limite? Perché non sempre noi siamo nella capacità di ragionare, di porre dei limiti, perché magari è una giornata faticosa, siamo arrabbiati, siamo amareggiati, siamo delusi dalla vita in generale. Quindi diventa tutto più complicato. Come faccio? Mi do dei limiti anche a livello economico. Quindi se vado a fare la spesa con i contanti, non vado, se devo acquistare una cinquantina di euro di prodotti, non vado con 100-150 euro, faccio un esempio, ovviamente non mi prendete proprio sola, e me ne porto 65. Così comunque non è che mi devo mettere a fare con la calcolatrice i calcoli di quello che acquisto per arrivare al centesimo e 50 euro, però non vado oltre, perché dico ma come faccio a comprarmi lo smalto se poi non rientro a livello economico e non ho i soldi? Molti di noi non piace fare la figuraccia di andare alla cassa e non avere i soldi per pagare il prodotto che abbiamo preso, no? Quindi questo ci limita in qualche modo. E stessa cosa, per chi paga non con i contanti, ad esempio io, ma con la carta, mi porto la mia carta prepagata che ricarico esclusivamente per questo acquisto che devo fare, quindi stesso principio, devo pagare 50 euro, metto 65, ma più di quelli non ce l'ho e quindi non acquisto ciò che non mi è necessario. Ditemi se è un'idea che vi può interessare, secondo me è molto molto interessante. E poi step 3, l'ultimo, per finire il webinar, dopo l'acquisto. Cosa dico? È fondamentale non dare per scontato che si risolve tutto con la raccolta differenziata. Ebbene sì, anche se io sono portatrice della parola raccolta differenziata, ahimè mi tocca dirvi, state attenti, perché? Perché molte persone pensano, ah vabbè tanto la bottiglia di plastica, qui ho scritto che è riciclabile nella raccolta al 100%, riciclabile nella raccolta plastica, a posto, sto a posto con la coscienza, perché si ricicla, va nella raccolta differenziata, ritorna, nuova vita, nuovo materiale, stiamo a posto con la coscienza. Però almeno sappiamo che la raccolta differenziata ci aiuta ad abbassare del 30% circa l'emissione di CO2 rispetto alla classica discarica dove vengono lasciati proprio i rifiuti sottoterra oppure bruciati. però di luce non elimina. Quindi sappiamo che poi ci sono tante difficoltà nel mondo della raccolta differenziata, c'è tanto da fare, tanto da crescere, ma solo in Italia non tutti i comuni fanno la raccolta differenziata completa, a livello europeo, a livello mondiale, cioè rendiamoci conto che non è così semplice, quindi non è la soluzione, la magica soluzione nella riduzione o eliminazione dei rifiuti. Quindi prima di conferire un prodotto nella raccolta differenziata, chiediamoci se quell'oggetto lo posso utilizzare di nuovo. Un esempio, una bottiglia di plastica, la posso utilizzare, io ad esempio come vi ho detto ci metto il prodotto del detersivo dei piatti, utilizzo quello oppure per metterci l'olio che devo poi andare a buttare nell'isola ecologica. Esempi così semplici. Poi chiediamoci se puoi riutilizzarlo attraverso il riciclo creativo, non solo il riciclo creativo dell'oggettistico ma anche il culinario. Facciamo attenzione perché è molto importante anche ridurre rifiuti alimentari, sappiamo tutti. Quando si diceva a noi bambini quando non mangiavamo, che fai? Non mangi? Ci sono tanti bambini che non muoiono di fame? Insomma, dobbiamo anche a livello etico non sprecare tutto ciò che abbiamo perché tante persone non hanno proprio nulla. Se l'oggetto che hai è rotto, lo puoi aggiustare? Possiamo riaggiustarlo in modo semplice anche noi che non sappiamo farlo? Banali, persone che non sa fare, che la manualità non ce l'ha? Posso ricucire un piccolo puntino che si è bucato il maglioncino? Posso riutilizzare una presa? Basta che la apro, taglio i fili, li rimetto? Ci sono tanti tutorial poi online su tutto? Proviamoci. È un modo per ridurre i rifiuti e riutilizzare quel prodotto che magari con nulla ritorna intatto e posso utilizzare come prima. Se il tuo oggetto è un doppione, mi succede spesso tra regali che ti fanno o cose che ti acquisti che appunto non andiamo con la consapevolezza di saperlo che l'abbiamo già, quindi lo riacquistiamo, lo possiamo regalare, lo possiamo rivendere? È importante prima di buttarlo perché qualcuno potrebbe utilizzare questo prodotto che non ce l'ha e quindi riduciamo i nostri rifiuti, il nostro rifiuto. Oppure abbiamo mai pensato alla possibilità di dare il nostro oggetto seminuovo e renderlo ricondizionato? Cioè per esempio un piccino l'abbiamo acquistato ma non ha nuovo, non ha le caratteristiche che ci servono per fare un determinato lavoro oppure ci siamo pentiti eccetera. Perché non riproporlo come un prodotto ricondizionato? Ricondizionato è un po' diverso dall'usato perché l'usato è quello che è usato. Ricondizionato in qualche modo questo oggetto viene riportato a nuovo, non nuovissimo ma quasi e quindi ha delle caratteristiche migliori dell'usato. Consideriamo anche questo aspetto qui. Parlando del riciclo creativo volevo farvi vedere delle idee in modo molto rapido, molto veloce però per farvi capire che volendo si possono utilizzare tante cose e tanti materiali. E se più che mi piace più di tutti è il primo della caffettera della Moga di Flavia che fa parte della, una persona che fa parte della comunità di pianeta delle idee ambiente della community e guardate che idea ingegnosa con sua mi pare cognata ha riutilizzato il tappo di sughero messo al posto del pomello che serve per aprire la caffettera che si era rotto. Cioè è una cosa meravigliosa, semplice, forse anche banale in qualche modo ma guardate che meraviglia. Cioè per farvi capire che tutto si può utilizzare e abbiamo tante cose ma non le sfruttiamo al massimo. Un'altra idea sempre del tappo di sughero sono i dadi da gioco, un'idea che mi è venuta in mente. Basta tagliare il tappo di sughero con una taglierina a cubo e abbiamo i nostri dadi che funzionano. Cioè è una cosa impressionante ma funzionano. Il block notice, un'altra bellissima idea facile, ci sono tantissimi tutorial che si possono trovare, questa è un'idea che ho avuto io però insomma che vedete sulla sullo schermo vicino ai dadi e con niente non possiamo farci un block notice invece di andarlo a comprare. La saponetta, tutti gli avanzi li mettiamo su un vasetto, li chiudiamo così utilizziamo anche il vasetto di vetro, non so della marmellata. Quando arriva una quantità che possiamo farci una saponetta basta prendere e unirci le mani, unire tutti i pezzetti come se fosse la plastilina quando eravamo bambini e dargli la forma anche classica ovale. Io nella quotidianità do la forma classica ovale. In questo caso per rendere più carina la cosa l'ho fatta a forma di cuore però insomma e dal nulla, da degli sprechi che non butteremo in realtà possiamo creare una nuova saponetta. I fiocchi, quando si fanno i pacchi regalo andiamo sempre a cercare i fiocchi, oddio ce l'ho, non ce l'ho, eccetera. Però basta prendere anche la carta da regalo, fare tutte delle striscette, poi unirle insieme con la colla a forma di fiore e possiamo fare il nostro fiocco fiore per decorare un pacco regalo. Ed infine, no, infine ci sono due alternative della carta, no? Un materiale che noi pensiamo molto delicato, molto fragile ma in realtà molto resistente. Basta fare delle cannucce e queste cannucce possiamo lavorare e realizzare tantissime cose, tra cui questo bracciale che io porto a dieci anni, più o meno. Certo, non è un lavoro semplice, bisogna un po' ingegnarsi, prenderci un po' a mano, però per farvi capire che cosa si può realizzare anche con i Depian, con carta di giornale. Questi sono dei Depian, no, questa era un carta del giornale proprio, vedete, si vede dentro. Che praticamente sono delle cannucce che sono arrotolate e unite insieme con la colla vinilica, poi una volta asciutto ovviamente l'ho decorato, l'ho colorato, poi l'ho ripassato sia fuori che dentro della colla vinilica per rendere più duro il materiale, il bracciale, anche un po' contro l'acqua, perché se cade un po' d'acqua oppure con il sudore si può rovinare la carta, invece così rimane idrorepellente. È meraviglioso, è duro, io uso, non si deforma e, ecco, per farvi capire la potenzialità del riciclo creativo e sempre con le cannucce di carta si può creare questo cestino. Lì l'ho messo così in forma di decorativa quando l'ho fatto per farlo vedere, sempre questo anche a dieci anni mi ha seguito in tutte le case in cui mi sono trasferita e ce l'ho qua, io ci tengo i tappi di sughero, anche poi una volta arrivata a una quantità tipo questa, poi mi ingegno e li riutilizzo in qualche modo, perché il sughero è un materiale meraviglioso. Una volta ho fatto un tappeto, perché non mi piaceva come rendeva, si sporcava, si bagnava troppo di chea, tra l'altro. L'ho ricoperto tutto con i tappi di sughero tagliati a metà, molto carino, molto pratico, molto utile, ce l'ho ancora. Mi piace molto anche chi ha i gatti, perché si vanno a fare le unghie, quindi un po' si è rovinato, basta togliere, staccare in qualche modo quella parte che loro hanno rovinato, rimetterlo, è molto utile, molto 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 utile. E quindi che dire, se no io avrei buttato sia i tappi che il tappeto. In questo modo invece l'utilizzo ancora e ho dato nuova vita e ho evitato di produrre un rifiuto, due rifiuti in più. Detto ciò, siamo arrivati alla fine, circa mezz'ora. Quindi se siete arrivati qui vi ringrazio, perché vuol dire insomma che siete curiosi, che avete voglia di cercare in qualche modo di ridurre i vostri rifiuti quotidiani, di dare un contributo alla nostra società. E quindi ricapitolando le azioni principali che dobbiamo fare, 3 step, prima dell'acquisto, durante l'acquisto, dopo l'acquisto, ricordiamoci di farci una lista di quello che dobbiamo acquistare, chiedersi se ce l'abbiamo già o meno in casa e se ci serve realmente. Durante l'acquisto guardiamoci intorno, ragioniamo, osserviamo e guardiamo i prodotti che abbiamo a disposizione e che possiamo scegliere. E prima di buttare un oggetto chiediamoci se lo possiamo riutilizzare in qualche modo, anche se va nella raccolta differenziata. Spero che il webinar ti sia piaciuto e se ti è piaciuto lo reputi utile, taggalo, taggami o condividilo, a me fa molto piacere. E niente, vi saluto, così facciamo una mezz'ora precisa, così non è un webinar pesante e che rimane troppo anche noioso in qualche modo. vi saluto con questa frase che mi piace molto, che è possiamo tutti fare la nostra parte per combattere l'invasione dei rifiuti. Ricordiamocelo sempre, che è molto importante. Vi saluto e se questa tipologia di video, di webinar, vi è piaciuto, fatemelo sapere, lasciate commenti, altre idee che io non ho dato, così da confrontarci e così magari ne facciamo un altro di questa tipologia. Quindi vi saluto e alla prossima! Grazie! 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 Grazie!